Ivanka Trump meglio di Charlize Theron? Lo dice papà Donald Trump Imprenditore di successo e grande amante delle donne, Donald Trump ha parlato delle più famose star di Hollywood, spiegando il suo punto di vista sulla bellezza femminile. . Secondo il presidente statunitense, sua figlia Ivanka Trump sarebbe più bella di Charlize Theron e di altre celebri attrici per una serie di motivi che riguardano l'aspetto estetico, ecco che cosa ha raccontato Trump. Ivanka Trump è lei la più bella del reame secondo papà Donald. . Come ogni padre, Donald Trump è innamoratissimo della figlia, avuta durante la sua relazione con Ivana Trump, Ivanka ha colpito molte persone per la sua bellezza e per le sue capacità oratorie, ampiamente dimostrate durante numerosi incontri pubblici con personalità internazionali. . . Il rapporto tra padre e figlia è unico e speciale, per questo motivo il presidente statunitense coglie ogni occasione per portare con sé la figlia, molto apprezzata per le sue doti diplomatiche. . 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